Ciao a tutti, apro i miei video sempre con i soliti codici, questo è di Stirpe de Draghi e vi porto l'apertura di 14 pacchetti random abbiamo 4 di Esploratori delle Tenebre 1, 2, 3 e 4 di Battaglie Triunfali 1 di Ergold Sul Silver poi 1, 2 e 3 di Senza Paura e 2 di Forze Scatenate allora in questo caso ne apro 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 quindi ne apro 8 nella prima parte e 6 nella seconda solo per rispettare le varie espansioni allora iniziamo con Esploratori delle Tenebre ne faccio del fogliettino ok allora qui possiamo sfasciare tutto perché gli artwork li ho tutti quindi lascio il codice facciamo il Trick e abbiamo Torqual Yamask Gurdur Chansi Bulbasaur Ponyard Tainamos Shelmet Ducklet Reverse e Hacer Goraru questo è il codice abbiamo Super Martello Super Martello Vanilish Montevite Screghi Larvesta Timbor Sensei Time Pool Katot Chatot Reverse e Bishar Praro andiamo con il penultimo di Esploratori delle Tenebre questo è il codice abbiamo Tepisti Boy Brian Combosche Clang Piplap Karablast Sensei Zorua Lillipuff Slowking Reverse e Aerodactyl l'ultimo di Esploratori delle Tenebre questo pacchetto non si voleva aprire questo è il codice allora Comboschen Super Martello Vaporeon Tainamo Blasol Larvesta Wubat Ivi Tepisti Boy Brian ed Excadrill Raro allora i pacchetti di Esploratori delle Tenebre non sono stati un branchè adesso abbiamo quelli di Battaglie Trionfali allora abbiamo facciamo il trick abbiamo Tentacruel Magmar Electabuzz Nidoran Volbit Swainub Gastly Magnemite Lunatone Reverse e Carnivine Rano Allora abbiamo Braccio Scarto Piloswain Electrodo Besprut Magnemite Yamma PJ Swainub Magmar Reverse Altaria Altaria Olo Altaria Olo Altaria Olo Altaria Olo Chiumon Carvagna Shappet Nidoran Tentacul Besprut Reverse e Banette Raro apriamo l'ultimo pacchetto della prima parte potere e Casi Maruac Kangaskhan Ano Ipom Tentacle Diglett Yamma Psyduck Lion Reverse e Lunaton Raro Perfetto, qui finisce la prima parte vi aspetto per la seconda